È durato poco il vertice bilaterale russo-americano a margine della conferenza internazionale sulla Libia. John Kerry e Sergei Lavrov hanno parlato per circa un quarto d'ora, dopodiché non hanno comunicato nulla. È solo il ministro russo a dire più tardi alle agenzie che i due paesi non hanno ancora raggiunto una comprensione reciproca e definitiva sull'Ucraina. Per ora non possiamo annunciare alla comunità internazionale che abbiamo trovato un accordo, ha spiegato senza però fornire dettagli. Il negoziato sull'Ucraina era stato avviato ieri a Parigi, dopo una sospensione, si è deciso di riprenderlo a margine della conferenza sulla Libia a Roma, ma è ancora un nulla di fatto.